Gravina Sappiamo tutti che il Gravina è una squadra tosta, soprattutto in casa ha fatto punti e vittorie contro le grandi squadre quindi ci aspetterà una partita veramente dura ma abbiamo lavorato duramente questa settimana per prepararci al meglio e affrontare nel migliore dei modi il Gravina Non sarà una partita semplice? Come il Bitonto la deve e la può affrontare questa gara? La deve prendere nel modo giusto come affrontate tutte le altre partite, alla fine sappiamo che il Gravina è una squadra che soprattutto in casa non concede niente agli avversari ma giocheremo per vincere come sempre e andremo a fare la nostra partita Cosa vi aspettate tatticamente dalla formazione giallo-blu? Riproporrà probabilmente il 4-3-3 delle ultime settimane proposto da mister Luseto? Ci siamo preparati su entrambi i moduli che possono fare quindi qualsiasi sia il loro modulo noi sapremo come difendersi e attaccare Tutta fascia, Oniturito, difesa, attacco, quanto è cambiato Oniturito in questa stagione positiva sicuramente da un punto di vista personale e finora anche della squadra? Sono cambiato per confronto all'anno scorso, comunque facevo il terzo d'attacco, quest'anno mi sono adeguato al ruolo che mi ha dato il mister e penso che stia facendo bene sia per me stesso che per la squadra continuerò sempre a mettermi a disposizione del mister ovunque mi metterà e speriamo di fare bene fino alla fine Fare risultato a Gravina, seppur manchino ancora tante giornate alla fine del campionato per questo obiettivo che si è posto il Bitonto quanto può essere decisivo e importante in questo momento della stagione? Può essere molto decisivo, se vinciamo comunque non cambia niente, non è che vinciamo qualcosa ma comunque ci fa mettere un matoncino in più al muro che stiamo costruendo quindi vincere là sarebbe veramente una grande cosa